L'amore che ci lega alla nostra terra ci porta con passione, consapevolezza e sostenibilità a coltivare con cura 33.000 piante di nocciole nell'incontaminata valle del Casentino, dove Aruba fonda le sue radici. Per noi un'agricoltura sostenibile significa ascoltare la natura e l'uomo. Nessun pesticida, totale controllo nell'uso delle risorse idriche, rispetto per il prodotto, l'ambiente e i consumatori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS